Sono Ilaria Peano, sono uno dei collaboratori della diocesi di Cuneo Fossano e in questo momento alle mie spalle si sta svolgendo uno degli appuntamenti della cultura che cura, organizzato grazie al sostegno dei volontari per l'arte della diocesi di Cuneo Fossano. Le cinque attività che abbiamo svolto sono state realizzate grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e sostenute dalla consulta del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il progetto si intitola La cultura che cura e noi l'abbiamo declinato all'interno della favolosa cornice dei Battuti Rossi. A questa iniziativa hanno partecipato i principali centri diurni per disabili del Fossanese, quindi il centro diurno Il Ramo, il centro diurno Santa Chiara e il centro diurno Il Mosaico. Queste attività sono state realizzate dai volontari per l'arte della diocesi di Cuneo Fossano e hanno offerto delle occasioni di bellezza inedita anche per persone che generalmente non hanno la possibilità di fruire del patrimonio storico, artistico, culturale del nostro territorio. L'obiettivo di questo progetto era creare inclusione e accessibilità di tutti questi nostri beni che ancora oggi raccontano una loro storia. Un ringraziamento particolare a tutti coloro i quali hanno creduto in questa iniziativa e ai centri diurni che hanno appoggiato la nostra idea e hanno condotto i loro ospiti all'interno di questa chiesa. Un ringraziamento sentito va anche alla dottoressa Monica Mazzucco, grazie alla cui preziosa collaborazione è stato realizzato questo progetto.